Ciao sono Francesco, oggi vedremo il teorema di Pitagolo, si applica anche ad altre figure geometriche che possiamo costruire sui lati del triangolo rettangolo, ad esempio degli esagoni regolari Dobbiamo dire Policono regolare Se dobbiamo mettere Anche nell'altro lo dobbiamo fare Sempre 6 Sempre 6 L'area dell'esagono sul cateto 1 e quella del cateto 2 danno insieme l'area dell'esagono sull'ipotenusa Vediamo questa cosa 23.38 Più 41.57 Uguale 64.95 E' giusto Ciao a tutti Arrivederci Grazie a tutti